Prego dottore, dicevamo appunto che questo della salute è un bene primario. Certo, certo. Tocca adesso a voi. Noi medici, infermieri e tutta la medicina, tutti i medici dell'ospedale lavorano e si ammalano anche per questo ospedale. Noi ce la mettiamo tutta. Adesso tocca a voi. Ogni mio congresso, ogni mio convegno che quando mi invitano per l'Italia termino sempre con una slide, una diapositiva, una diapositiva che cita e recita una frase emblematica, a me molto significativa, di una grande donna, piccola di statura ma grande dal punto di vista umano. Una volta un grande Papa incontra questa donna durante le sue visite e prendendo le sue mani le accarezza dicendo che sono stanche, ormai anziana, basta. questa piccola donna che è madre Teresa di Calcutta alza le mani verso il Papa e dice ma le mie mani sono felici perché asciugano molte lacrime. Grazie a tutti. Grazie al dottor Vincenzo Viola, medico chirurgo dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e proprio a San Giovanni di Dio sarà destinata la somma raccolta in beneficenza per queste due iniziative che si svolgeranno il 29 di aprile al Holiday Village di Fondi dove ci sarà una cena in beneficenza, parteciperanno gli attori, i cantanti comunque tutti coloro che parteciperanno a questa partita, ex calciatori di serie A e per partecipare a questa cena ci si può prenotare sui numeri in sovraimpressione che vedrete e quindi a questi numeri bisogna prenotarsi per il 29 sera. e poi il 30, una partita davvero alla quale non possiamo mancare, questa del insieme per la vita un incontro calcistico a sostegno dell'ospedale di Fondi tra la Nazionale Calcio Attori e gli ex calciatori di serie A con l'integrazione dei staff medico quindi avremo anche dei medici che scendono in campo non so se il dottor Vincenzo Viola scenderà in campo sì, marcherò Pecchia, no? Pecchia gioca con me gioca con insieme a Pecchia sarai lì sul campo, insomma sì, sì, sì qualche passo per rianimarmi qualche passo sicuramente lo farà c'è uno staff di medici che giochiamo a calcetto diciamo, non dico quotidianamente, ma ogni mese ci ritroviamo e quindi sarà questo staff di medici che giocherà in questo frangente poi vediamo un po' chi sarà più bravo chi è più tra la Nazionale Calcio Attori e gli ex calciatori di serie A si accettano scommesse per chi poi chi vincerà poi questa partita che è sì ai fini proprio agonistico è chiaro che noi lo facciamo per far vincere la solidarietà ma poi alla fine la partita deve essere qualcuno dovrà pure vincere forse finirà a Parigi e qui accanto a me c'è l'assessore alla cultura del Comune di Fondi rappresentanza dell'amministrazione comunale di Fondi che poi è uno degli enti che ha patrocinato questa iniziativa insieme al Comune di Sperlonga e alla provincia di Latina il professor Lucio Biasillo che sicuramente vorrà dire qualche cosa a sostegno di questa iniziativa facciamo questo applauso grazie dell'accoglienza e sono stato fino adesso in giro per le vostre scuole a salutare gli altri vostri amici che stamattina non stavano qui insieme al nostro sindaco abbiamo visitato non abbiamo fatto in tempo a fare tutto quello che avevamo in mente ma abbiamo visitato la scuola Gonzaga la Don Milani la Purificato e poi la Garibaldi nei prossimi giorni visiteremo anche le altre scuole mentre stavamo per arrivare qui insieme al sindaco ci è arrivata una telefonata per cui è presente oggi nel nostro comune l'assessore regionale all'ambiente per cui il sindaco Mattei il dottor Mattei per cui il nostro sindaco necessariamente è andato lì a riceverlo e quindi molto indegnamente vengo io a rappresentarlo qui oggi è un vero piacere per me intanto vedere la partecipazione di queste scuole ringrazio gli alunni i docenti che hanno sempre molta pazienza e che si prestano anche con molta attenzione a queste attività e naturalmente i dirigenti che hanno consentito questa visita è un momento anche particolare lo dicevo al presidente dell'associazione Diecellote che oggi insomma comincia la settimana così con la quale poi da giovedì cominceranno le vacanze per cui ci sono una serie di iniziative e di attività nelle scuole che impediscono poi una partecipazione che magari avremmo voluto anche un po' più così consistente però questa iniziativa è naturalmente lodevole mi piace il taglio che è stata data anche a questa presentazione questa conferenza stampa non è soltanto una conferenza stampa di presentazione del programma che è stato più volte già sottolineato una cena di beneficenza una partita di calcio altrettanto importante ma vuole essere soprattutto un momento di sensibilizzazione dei ragazzi anche al problema della salute quindi accetto in pieno l'offerta del dottor Viola e il suo impegno naturalmente per un'attività di questo tipo soprattutto perché è indirizzata anche in termini formativi ed educativi che diventa sempre un fatto sostanziale rispetto a tutto il resto soprattutto poi per me che faccio anche l'assessore alle politiche scolastiche questo diventa un momento di fondamentale riferimento volevo ringraziare gli organizzatori intanto la presidente che ho avuto modo già di incontrare in altre occasioni e sono impegnata anche se l'associazione è molto giovane già impegnata su diversi livelli qualitativamente importanti perché questo va detto nella nostra comunità ci sono tante associazioni culturali ma spesso ci disperdiamo in tanti rivoli e rivoletti e forse vale la pena cominciare a crescere in eccellenza e in qualità e questa manifestazione è una di quelle che può far crescere anche culturalmente in attenzione qualitativamente questa nostra comunità quindi un grazie di cuore non è un grazie così tanto e poi un ringraziamento naturalmente a Bernardino che è l'organizzatore di tutto questo e al comune di Sperlonga che insieme a noi collabora in questo progetto così importante e tutto quello che c'era da dire sull'impegno dell'ospedale dei medici e degli infermieri l'ha detto già il dottor Viola io vorrei solo ricordare che il problema della sanità è anche per questa amministrazione un problema di riferimento fondamentale il dottor Viola sa bene qual è l'impegno che anche l'amministrazione ha profuso per la risoluzione dei tanti problemi che anche ultimamente e soprattutto negli ultimi anni il nostro ospedale sta attraversando insieme a loro siamo convinti che al di là dell'impegno civile c'è bisogno dell'impegno di amministratori c'è bisogno anche di un impegno di solidarietà e non tanto perché i fondi forse non si possono trovare da altre parti ma perché queste raccolte servono a far partecipare tutti nella convinzione che la salute è poi un bene obiettivamente fondamentale è un bene che tutta la comunità deve partecipare nella sua gestione e nella sua realizzazione io a chiusura di questo intervento volevo intanto ringraziare poi i rappresentanti degli attori e i rappresentanti dei calciatori che ci danno una mano a fare di questa manifestazione qualcosa di importante e di rilevante e che quindi con la loro testimonianza ci aiuta a far crescere anche questa possibilità l'ultimo invito lo faccio a tutti a tutti voi ragazzi a tutti i vostri genitori a partecipare a questa manifestazione veramente tutti quindi portate a casa questo messaggio dell'importanza della difesa della salute e poi invitate i vostri genitori fratelli, cugini, quelli più grandi e quelli più piccoli a partecipare vi aspettiamo alla cena e anche alla partita di calcio grazie ovviamente l'invito dell'assessore era rivolto anche ai nostri telespettatori che ci seguono numerosi dai teleschermi e oltre ai presenti che sono qui all'auditorio comunale di San Domenico qui accanto a me, alla mia destra c'è il delegato del sindaco di Sperlonga come dicevamo prima un comune a noi vicino ma comunque fa parte di questo bacino importante baciato da Dio devo dire per la natura per le bellezze che possiamo esprimere dal mare alle colline alla pianura ai laghi tanta cultura e poi c'è questo fiore all'occhiello che deve essere l'ospedale civile di Fondi che da sempre diciamo che sono secoli che la presenza sanitaria ha Fondi e che ogni tanto ha bisogno possiamo dire un'iniezione una flebbo come possiamo dire una flebbo una trasfusione un po' di trasfusione per rimetterlo un po' su questo quindi dicevo c'è da volentieri la parola all'avvocato Francesco d'Arcangelo come delegato e sindaco del comune di Sperlonga Buongiorno innanzitutto porgo un caloroso saluto e un ringraziamento a voi tutti di essere qui presenti a nome del sindaco Rocco Scalingi che purtroppo per un pregresso impegno istituzionale non è potuto essere qui con noi stamattina sinceramente la cosa più importante come giustamente diceva prima il dottor Viola e come dicevano anche gli altri che hanno parlato prima di me questa manifestazione a prescindere dalla bellezza che possa avere in se stesso va vista soprattutto in un'ottica di sensibilità in voi giovani una sensibilità che deve portare ad essere molto più solidali con le persone quindi portare a una solidarietà che molto spesso viene trascurata da noi tutti quindi un minimo impegno da parte di ognuno potrebbe portare effettivamente grossissimi risultati per le persone che a volte soffrono o che non hanno nulla questo evento che è stato promosso dalla Dieci e l'Ode e come è arrivato alla nostra attenzione dell'amministrazione comunale di Sperlonga sinceramente è stato accolto in maniera estremamente positiva e per questo ci tengo a ringraziare la Presidente dell'Associazione Federica Micci che si è attivata veramente in maniera egregia nel coordinare tutte le attività un ringraziamento anche ai docenti e a voi che siete qui presenti e un ringraziamento particolare il Sindaco mi ha chiesto di rivolgerlo al Dottor Viola che comunque ha dato un notevole impegno personale a questa manifestazione effettivamente l'invito è quello a voi tutti di partecipare in maniera attiva sia alla scena e soprattutto di partecipare alla partita anche per dare un segno di presenza per tutto quello che può essere visto come un aspetto positivo di questa partita e questo evento serve soprattutto effettivamente come ricordava prima il Dottor Viola l'ospedale di fondi ha delle problematiche che si cerca in ogni modo di poter risolvere per il bene di noi tutti perché comunque non è l'ospedale di fondi ma è l'ospedale del nostro comprensorio quindi di Sperlonga di Leno di Monte San Piaggio di Terracigan quindi tutti possono usufruirne ed effettivamente a sentire prima il Dottore la struttura è obsoleta quindi anche questi piccoli eventi che si cerca di organizzare possono effettivamente rappresentare un punto importante un punto per migliorare il servizio per noi tutti e questo è un invito proprio a voi giovani di portare avanti sempre la solidarietà ed essere sensibili ai problemi degli altri perché effettivamente molte volte noi stiamo bene e dimentichiamo effettivamente le problematiche che ci sono attorno o vengono prese in minima considerazione mentre probabilmente veramente il minimo impegno di ognuno di noi potrebbe essere veramente utile noi come amministrazione siamo stati coinvolti in questo evento abbiamo dato la nostra massima disponibilità abbiamo messo a disposizione la nostra struttura e nel nostro piccolo cercheremo di dare il massimo contributo possibile per garantire la miglior riuscita dell'evento adesso serve il vostro contributo dei vostri genitori dei vostri parenti dei vostri amici per partecipare numerosi e dare veramente un segno che siamo tutti presenti per la solidarietà grazie bene grazie scusa sì prego dottor Vincenzo Viola volevo solamente un po' rettificare grazie Francesco credo grazie alle parole anche al sindaco ringrazio tutti quanti non è l'ospedale obsoleto sono l'ospedale è all'avanguardia con medici veramente in gamba e sono i macchinari no mi correggo io mi riferivo alle strutture macchinari non assolutamente no volevo che questo mi permette l'ospedale ormai è diventato un centro di riferimento assolutamente veramente grande per la chirurgia per tutta la provincia di Latina ormai afferiscono a noi da tutta la provincia è un po' rettificare